e tutti i nostri ospiti. Francesco, che cosa ci fai sentire alla fine per salutarci, per ringraziare i nostri ospiti, i nostri spettatori e il nostro pubblico? Guarda, io vorrei eseguire un brano di Gino Paoli che si intitola Senza Fine. Un brano che secondo me diverrà uno standard, così come lo è stato per estate, di Bruno Martino. Quindi voglio suonare Senza Fine. Prego, preparati pure. Allora, a chiusura di questa puntata, seconda puntata speciale sul Festival di Sanremo, nel rapporto tra le canzoni italiane e i 150 anni dell'Unità d'Italia, Francesco Cafiso in un grandissimo pezzo di Gino Paoli. Grazie a tutti. 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 Bravo, bravo Francesco. Grazie a tutti.